La prima ragazza e le complimenti, grandissima, anche 5 a tutti, spettacolo! E lei con il febbraio 1075, Mattea Sivic! Grandissima, grande, è arrivato anche meglio Trustoron, grande Danilo, Fiammeoro e anche Policarpento che arriva a Quatica. A Quatica Torino, ecco Antepozzati, grande, attenzione la seconda, ecco l'altro a guardo, Fiammeoro, Daniela Svetto, bravissima! Grande applauso, grande abbraccio dalle prime due, ecco Ivarissi, grandi Rissi, questo è veramente sport suro. Appaludiamo ancora questi grandi campioni! Pubilec, 5,17! La terza, la terza! Il vincolo, Fiammeoro e il terzo posto!